Lo chef favarese Max Ballarò ce l'ha fatta, ha raggiunto l'Olimpo degli chef mondiali. Ha guadagnato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Cucina ICA 2020 nella categoria Culinary Heart. Questa disciplina premia la presentazione dei piatti, l'estetica, con un occhiolino ai nuovi e corretti modi di impiattare. Le Olimpiadi di Cucina sono la competizione mondiale più importante in assoluto nel settore gastronomico. Grandissima soddisfazione per il giovane 36enne favarese che è appena ritornato da Stoccarda, Germania meridionale, dove le Olimpiadi si sono svolte dal 14 al 19 febbraio 2020. Assieme a lui c'era un altro chef agrigentino, Liborio Bivona, 46 anni di Menfi, che si è guadagnato la medaglia d'argento. Ad accompagnarli tre helper, Antonino Fiannaca di Realmonte, Angelo Calabria di Ribera e Francesco Schembri di Cattolica Eraclea. Circa 5.000 in tutto gli chef provenienti da ogni parte del globo terrestre per partecipare alle Olimpiadi nelle varie discipline. Di questi, 154 sono coloro che hanno lavorato sodo per vincere nella categoria Calinary Heart. A ricevere la medaglia d'oro sono stati però solo in 14 e, tra loro, c'è proprio lo chef favarese Max Ballarò, che si è piazzato, pensate, all'undicesimo posto a livello mondiale. Max è stato l'unico italiano ad avere una medaglia d'oro in questa categoria. Ha approntato un tavolo freddo con buffet e degustazioni, ovviamente gourmet, con piatti gelatinati. Ha preparato più tipi di finger food per sei persone e un menù gastronomico con cinque portate. Bravo Max, allora, grande eccellenza del cibo gourmet italiano. Ha portato alto a Stoccarda il nome dell'Italia, della Sicilia, di Agrigento, ma soprattutto di Favara. Max ha rappresentato anche la Federcuochi Italiana, l'Unione Regionale Cuochi Sicilia e l'Associazione Cuochi di Agrigento. Adesso, dopo questa straordinaria vittoria, chissà che nel prossimo futuro potremmo vederlo ricoprire il ruolo di giudice nei campionati nazionali. Max, ricevi l'oro alle Olimpiadi ICA 2020. Sì, ricevo l'oro alle Olimpiadi di ICA, sono felicissimo per questo grande risultato. Molta gioia dopo tanta ansia, tanta fatica, tanto lavoro. L'oro a livello olimpionico è fantastico riceverlo. Oggi, seguendo il medagliere, vedo che sono undicesimo a livello mondiale. Hanno dato solamente giudici 14 ori al mondo. Io sono l'undicesimo e il primo italiano assoluto a portare l'unica medaglia d'oro in Italia nella mia categoria, la Cullinari Art. Eravate in 5.000 a partecipare in tutta ICA per la tua categoria 154. Ma che impressione hai avuto? Una bella impressione. Tanti chef provenienti da tutto il mondo, organizzati con mezzi, autobus, tanta tanta gente. Non ho avuto al 100% modo di vedere tutti perché alcuni giorni eravamo impegnati nella preparazione. Ma in tutta la manifestazione più di 5.000 chef erano lì alle ICA Olimpiadi di Stoccarda. Sei partito per Stoccarda e è arrivato lì. Cosa è successo con i nostri collanzionali? Allora, intanto devo dirvi grazie che con il vostro servizio della scorsa edizione avete dato modo alla gente di far sapere che c'erano delle Olimpiadi. Non mi era mai capitato di avere tanta gente che mi supportava da lontano, dove mi chiamava la notte, sui social network mi scriveva. Mi sentivo molto coccolato da tanti miei paesani, da tanti siciliani che in effetti hanno seguito il vostro servizio. Mi hanno dato molta forza, mi hanno dato molta grinta e ringrazio tutti coloro che mi seguivano da lontano. Sei qualcuno che ci sta seguendo, oltre a vederti in televisione e a vederti sui nostri canali social, ma volesse vedere dai tuoi canali social, ad esempio i tuoi piatti. Cosa deve cercare? Beh, puoi aggiungermi sul mio profilo, Max Ballarò, o su Instagram, sempre Max Ballarò, cliccando segui, ecco. Antonino, durante le Olimpiadi sei stato l'helper di Max Ballarò, com'è andata? È stata un'esperienza fenomenale, diciamo, perché è stata una crescita innanzitutto professionale, poi abbiamo fatto nuovissime amicizie e poi collaborare a fianco allo chef durante la preparazione dei piatti è stata qualcosa di veramente eccezionale. C'è stato un piatto che ti ha dato particolare filo da torcere? No, ecco, diciamo che tutti i piatti sono stati un po' difficili, perché siamo stati ore e ore a preparare proprio quelle portate dove provavamo in conseguenza per trovare il piatto che a noi ci piaceva. Max Ballarò sale sul podio, viene nominato avente l'oro, beh, quale è stata la tua emozione, cosa hai provato, cosa è successo? Ci siamo messi subito a gridare e andare a abbracciare lo chef con tutte le nostre forze, quelle che ci rimanevano, diciamo. Adesso lo chef ha letto che è addirittura undicesimo a livello mondiale in queste Olimpiadi, beh, se l'ho raggiunto è anche un po' merito tuo. Sì, diciamo che c'è stato un po' merito di tutti il risultato che ha raggiunto lo chef. Ci siamo impegnati al meglio delle nostre forze. Ma uno chef durante questi giorni di preparazione cosa mangia? Nulla. Come nulla? Allora, in Germania non si trova nei prodotti nostri, c'è da mettere in chiaro questo. Anche noi non abbiamo portato materie prime nostre, non ci potevamo cucinare, quindi ci dovevamo adattare all'alimentazione che girava in giro. Ovvero Wustel, birra, cosa c'era? E kraut e kartofen. E kartofen.